Sei mesi di apertura e un centinaio di utenti al mese per lo sportello del cittadino allestito ai magazzini comunali di Feltre dall'amministrazione Fusaro. I dati dell'attività mostrano come un terzo degli accessi al punto per segnalazioni e richieste di informazioni riguardo il settore rifiuti. Chi va in via Vignigole spesso lo fa per questioni legate a chiavette o tessere magnetiche. Il 20% degli utenti chiede informazioni per contattare gli uffici comunali ma c'è anche chi si fa aiutare nel rapporto con le società dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica. Una parte del totale per quanto piccola va ai magazzini comunali anche solo per sfogarsi su questioni personali. Diciamo che in particolar modo si registra il passaggio di fasce di età relative ad utenti più avanti con gli anni che magari hanno meno dimestichezza con i mezzi tecnologici attualmente in uso ma che comunque attraverso questo sportello segnalano quelle che sono le esigenze e quelle che sono le necessità esistenti per l'appunto nelle frazioni. Incuriosisce il fatto inoltre che tanta gente e tante persone si rivolgano al sportello del cittadino soprattutto per o anche per conoscere la funzionalità del comune ma anche soprattutto per come esigenza o come sfogo per avere un colloquio o per poter parlare di problematiche con l'utente che per l'appunto attraverso lo sportello del cittadino si mette a loro disposizione.